Ancora il buon recupero di Ceccarelli, amoroso, la pressione di Stankovic, poi Gianni Kedda, tutto regolare, apertura per Paborski, Paborski, tiro, rete, Lazio in vantaggio con Paborski. Inzaghi, Manninger, e poi arriva Crespo, 2 a 0, raddoppio della Lazio, 2 a 0. Su Inzaghi, ecco qua Inzaghi che conclude, bravo Manninger, a parare di piede, e guardate qua cosa fa Crespo, a coordinarsi di sinistro. L'ultimo per Nesta, attaccato Nesta, se ne va prima Nuno Gomez, poi va Kuftis, poi dà il pallone per Negro, che scatta ancora, attenzione Claudio Lopez, golla! Claudio Lopez, 3 a 0.